Oggi parliamo di nazionalità. Conosci le domande da dove vieni, di dove sei? Vediamo insieme alcuni esempi. Italia. Vengo dall'Italia. Un ragazzo dice sono italiano. Una ragazza dice sono italiana. Due ragazzi dicono siamo italiani. Due ragazze dicono siamo italiane. Vediamo adesso altri esempi con altri paesi. Colombia. Vengo dalla Colombia. Sono colombiano. Sono colombiana. Siamo colombiani. Siamo colombiane. Croazia. Vengo dalla Croazia. Sono croato. Sono croata. Siamo croati. Siamo croate. Pakistan. Vengo dal Pakistan. Sono pakistano. Sono pakistana. Siamo pakistani. Siamo pakistane. Romania. Vengo dalla Romania. Sono romeno. Sono romena. Siamo romeni. Siamo romene. Spagna. Vengo dalla Spagna. Sono spagnolo. Sono spagnola. Siamo spagnoli. Siamo spagnole. Germania. Vengo dalla Germania. Sono tedesco. Sono tedesca. Siamo tedeschi. Siamo tedesche. Somalia. Vengo dalla Somalia. Sono Somali. Sono somalo. Sono somala. Siamo somali. Siamo somale. Venezuela. Vengo dal Venezuela. Sono venezuelano. Siamo venezuelani. Sono venezuelana. Siamo venezuelane. Marocco. Vengo dal Marocco. Sono marocchino. Sono marocchina. Siamo marocchini. Siamo marocchine. Mali. Vengo dal Mali. Sono maliano. Sono maliana. Siamo maliani. Siamo maliane. Attenzione! Qui abbiamo il Bangladesh. Vengo dal Bangladesh. Un ragazzo e una ragazza dicono sono bengalese. Due ragazzi. Due ragazze dicono siamo bengalesi. Portogallo. Vengo dal Portogallo. Sono portoghese. Siamo portoghesi. Ghana. Vengo dal Ghana. Sono ganese. Siamo ganesi. Macedonia. Vengo dalla Macedonia. Sono macedone. Siamo macedoni. Francia. Vengo dalla Francia. Sono francese. Siamo francesi. Albania. Vengo dall'Albania. Sono albanese. Siamo albanesi. Togo. Vengo dal Togo. Sono togolese. Siamo togolesi. Canada. Vengo dal Canada. Sono canadese. Siamo canadesi. Ricapitoliamo. Abbiamo qui il Messico e la Svezia. Vediamo insieme le nazionalità. Per il Messico abbiamo quattro possibilità. Messicano. Messicana. Messicani. Messicane. Per la Svezia abbiamo solo due possibilità. Svedese. Svedesi. Quindi in italiano ci sono due modi per fare le nazionalità. Abbiamo casi come il Messico, quindi con un maschile e un femminile singolare e poi un maschile e un femminile plurale, oppure casi come la Svezia, con un singolare uguale per maschile e femminile e un plurale uguale per maschile e femminile. È tutto. Alla prossima. Ciao!